Infedele alle patrie, alle nazioni e ai nazionalismi. Così il collega Costantino Foschini ha definito Gad Lerner presentando il suo ultimo lavoro Scintille alla libreria Feltrinelli di Bari, un libro autobiografico ma non solo. Sono un ebreo fortunato che ha vissuto fin dall'infanzia in questo paese molto accogliente. Dietro però c'è una storia complicata, una storia familiare anche di incomprensioni dovute al fatto che questa famiglia ha vissuto momenti decisivi della storia del Novecento, la guerra medio orientale, lo sterminio degli ebrei in Europa, senza rendersene conto, senza tramandarlo. Ed è credo un dato molto comune che però trasmette inquietudine, malessere. Gad Lerner ha ricostruito la sua storia familiare facendo un lavoro di ricerca e di viaggi andando a fare luce su una storia censurata dai suoi stessi genitori. Spesso, dice il noto giornalista e conduttore televisivo, il non detto sia esso la guerra, le malattie e le rotture viene sottaciuto facendo vedere agli altri solo le luci. Il racconto si snoda fra Beirut e D'Aleppo fino alle regioni ucraine di Leopoli e Borislav dove furono sterminati dai nazisti gran parte dei Lerner. L'indagine sulla memoria e sui conflitti familiari si rivela occasione per un viaggio nel mondo contemporaneo minato dalle crisi dei nazionalismi alla ricerca di un'armonia che non c'è. Nel suo codice genetico c'è una multinazionalità? Nel codice genetico di tutti ci sono origini complesse, stratificate. Nessuno è puro, nessuno appartiene a un luogo soltanto.